Sono iniziati i primi interventi per l'avvio dei lavori sulla realizzazione del parcheggio di via del risorgimento, quello a fianco del commissariato di polizia di Fano. Nella giornata di ieri sono terminate le rivelazioni con i metal detector per la bonifica bellica. Sono state rilevate alcune situazioni da verificare, per questo in questa settimana l'avete trovato chiuso, perché proprio oggi e domani stanno facendo queste verifiche. Non è stato trovato niente di preoccupante, è solo del materiale ferroso che comunque è stato tolto bonificato, quindi domani finiremo questo intervento. In questo parcheggio sorgeranno 88 posti auto a cui si aggiungono quelli destinati ai ciclomotori e quelli riservati ai disabili. Nei prossimi giorni la ditta appaltatrice del progetto inizierà i lavori effettivi sulla riqualificazione dell'area. Apriremo questo parcheggio temporaneamente per questo periodo diciamo che non ci saranno i lavori, per poi richiuderlo definitivamente per finalmente l'inizio dei lavori. L'area di sosta sarà completamente gratuita, illuminata e ricca di alberature per favorire l'ombra durante la stagione estiva. I tempi previsti per i lavori sono di circa sei mesi per un costo totale di 400 mila euro. È un parcheggio in materiale drenante, alberato, ci saranno degli stalli per biciclette e motorini. È molto importante anche che realizzeremo un ingresso diretto verso i passeggi in modo da collegare questo parcheggio anche più facilmente al centro storico.